Finalmente è Pasqua, posso mangiarmi l'uovo di Pasqua che mi ha regalato mia madre. Sì, forse almeno se me lo regalava mio padre, visti i colori. Vabbè, apriamolo e mangiamone un pezzo. A dire, è duro, eh? Masco, più duro di quello che pensassi. Marca miseria, oh, ma che vero è? Proviamo un bel cartone e via. Oh! Marca miseria, ma cos'è, oh? Ma non si vuole proprio rompere questo affare qua. Ci voglio le maniere forti. Va bene, vediamo se adesso non si apre. Bella botta. Uno, due, tre. Eh, la madonna, ma cos'è? Proviamo con questo, vediamo se si riesce a combinar qualcosa. Marca miseria. Oh, niente, niente. Niente da fare. Ma andiamo con questa. Se non si apre adesso, non si apre mai più. Andiamo se esco almeno a bucarlo. E... Vabbè, ma non si buca neanche. Ma cos'è? Vabbè, cosa devo fare ora? Insomma, ma di cos'è fatto questo aroma? Andiamo un po' da qui. Vedere. Cioè, mi sembra una roba assurda. Oh, no. Ma è al latte. Io lo preferisco fondente. Vabbè, lo regalerò a qualcuno. Ho dunque deciso di regalare ad uno di voi questo Synology DS214 SE. E lo voglio fare attraverso il contest di Extreme Hardware che vede proprio questo prodotto come premio in palio. Per partecipare è molto semplice, basta iscriversi al nostro canale di YouTube e lasciare un commento a questo video. Una volta che raggiungeremo i 1500 iscritti sul canale, uno di voi che appunto si è iscritto e ha lasciato il commento verrà sorteggiato e vincerà questo prodotto. Detto questo, vi auguro una buona Pasqua, buone vacanze e dalla redazione di Extreme Hardware è tutto per ora. A presto e ricordate di iscrivervi e lasciare il commento. Ciao a tutti. Ciao a tutti.